Sono ancora tante, nonostante la ripresa post-pandemica, le persone in povertà assoluta nel nostro paese. Si contano infatti 5,6 milioni di individui che non hanno accesso ad un'alimentazione adeguata. Solo in Calabria ad oggi sono 130.000 le persone servite dei progetti di spesa a domicilio dalle emense della carità, un dato cresciuto del 40% a seguito della pandemia e del conflitto in Ucraina. L'impegno del Banco Alimentare nel recupero delle eccedenze e la forte inflazione legata all'attuale crisi internazionale, è detto in un comunicato dell'Organizzazione di Assistenza ai Meno Abbienti, hanno fatto registrare un aumento dei costi della logistica, dei trasporti e dell'energia elettrica, così per poter continuare a sostenere le circa 600 strutture caritative in tutta la nostra regione, che aiutano centinaia di famiglie in difficoltà. Banco Alimentare fa appello alla solidarietà di tutti, lanciando la campagna di sensibilizzazione a raccolta fondi, donari di gusto We Care Together. La prima iniziativa prevista per questa campagna, che durerà fino ad agosto, il 28 e il 29 maggio, quando i volontari di Banco Alimentare saranno in piazza.